Vai! Ciao, è un perone! Ma no, quanto è alto? Oh no, è un pollo. No, no, non è un pollo! No, non è un pollo! denver denver avvicinati claudia dammi una mano ciao denverone si è bello proprio si è proprio bello si è proprio bellissimo è bello è bello è bello si è fatto chiatto bravo doppio chiatto devo farlo sedere seduto seduta bella faccia no ha detto no si 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 si